Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Dead Poly, un survival zombie eccetera eccetera, il suo prezzo è di 16,79€ su Steam, scontato nel momento in cui sto registrando a 12 e qualcosina, lo valuteremo per la prima volta insieme saltando a pie pari il tutorial, il gioco è in single player ma è possibile giocarlo anche in multiplayer o stando o entrando nei vari server presenti, divisi tra appunto ufficiali dei giocatori e così via. Lo iniziamo come ho detto in singolo, lo chiamiamo Indie e lo iniziamo. Ha delle meccaniche interessanti come quella dei menu contestuali che si aprono vicino al nostro personaggio, il nostro personaggio che attualmente ha un'arma che equipaggiamo premendo il tasto 2, la rimettiamo via, vedete che c'è fame e sete, la corsa quindi la stamina, grafica è carina, low poly, poi che il gioco si chiama Dead Poly, sarà una coincidenza non lo so, si interagisce con il tasto F e la cosa interessante adesso appena troveremo un oggetto vedremo che con la rotellina del mouse potremo interagire scegliendo appunto da un menu contestuale come diciamo interagire con quell'oggetto. Abbiamo anche, vabbè al momento non abbiamo uno zaino, sarà la nostra premura andare a trovarlo. Sperando di trovarlo presto. Beh, questo complesso di casi mi ricorda molto, beh io mi ricordo molto PlayerUnknown's Battlegrounds. Spero di trovare qualcosa perché poi comunque ci sono gli zombie. Qua un oggetto, vedete? Medium Vesta. Vedete? Cliccando con il, cioè muovendo la rotellina del mouse possiamo scegliere Search. E qua è una meccanica che prende un po' anche da Tarkov se vogliamo, l'equipaggio. Vedete che ce l'abbiamo addosso. Ah, devo avere un disco. Posso però raccoglierla, ma in questo caso non la raccolgo. Abbiamo il dresser che all'interno non ha nulla e abbiamo un letto. E questo è solo il primo degli appartamentini che ci sono qui in questo palazzo. Qua ci sono le scale. Qua si torna in strada. Vediamo se trovo qualcosa. Allora, Open. Niente. Open. Ah, qua ho trovato qualcosa. Delle munizioni. Me le prendo subito. Questo è un Item Salvager. Questo è un tavolo da lavoro. E vedete che qua possiamo andare a piazzare nell'inventario di questo tavolo da lavoro le nostre risorse e nel crafting possiamo ottenere queste. Da armi, il mixer, per fare battoni, per fare muri e quello che ci viene. Adesso. Qua non c'è nulla. Adesso sicuramente l'inizio è un po' lento perché non vedo neanche zombie, ma probabilmente il gioco ci sta dando un po' di tempo. Cosa che non mi dispiace perché... Questo cos'è? È una pressa che ci consente di fare... No, aspetta un secondo. Qui ho trovato della polvere da sparo, dei proiettili, altri proiettili. Uh, quanta roba. Perché nel crafting possiamo mettere questi... Ah, con del brass. Uh, interessante. Vediamo... Merda! Ok. Mamma mia. Mi ha fatto anche male, eh? Poi avevo una coca cola e una batteria. Ora, in silenzio, riproviamo mettendo del brass e della polvere da sparo. Vediamo se riusciamo... Mi metto di qua, girato così, così vedo se ne ho qualcuno. Se riusciamo a craftare dei proiettili. Sì. Vedete? Me li rimette poi. Ma bello! Posso farli di ogni tipo? Brass e gunpowder. Mi faccio dei 50, dei 9. Bella! Meccanica molto semplificata, ma gradita. Eh, al momento mi... Aspettate che mi riprendo anche... Metal to the chest, eh? Cupcake. Ah, perché la pressa è una cosa diversa. Ok. Sotto c'era un tavolino. Vabbè, ho trovato anche qualcosa da mangiare. Molto interessante questa cosa con la macchinetta per craftare i proiettili. Ma a questo punto saliamo. Cioè, quello zombie ci ha trovato in un niente. Adesso, facendo sempre attenzione, io luto. Sempre che ci sia qualcosa da lutare, un caricatore. Però, tante munizioni... No. Potevo prendere anche il vaso di fiori. No, dobbiamo essere assolutamente concreti. Una sedia. Impacchettata. Un dresser. Del brass. Ok. Il brass è interessante perché ci mancava. E adesso, magari prima di andare via, ci facciamo anche le munizioni 0,50 che sono quelle che tecnicamente ci servono per la pistola. E avevo finito il brass, che sarebbe la... la... non so, il bossolo. Sento rumore. Gioco vanta delle recensioni molto positive su Steam. Vi desidero anche ringraziare lo sviluppatore per avermi permesso di provare questo titolo. Come detto, ecco lo sento, non innova assolutamente nulla questo titolo, ma può essere interessante per gli appassionati di zombie. Adesso io non voglio dei zombie survival. Non voglio fossilizzarmi in un posto solo perché vorrei andare in campi più aperti. Adesso, mannaggia, ho questo che potrei comunque, cliccandoci, splittarlo, no? Lo metto qui, lo metto qui. Cioè, ho... ho un po' di tutto. Vabbè. Un disco. Vedete che c'è l'inventario medium best sotto, che è il gilet. Quindi nel gilet io magari ci posso mettere... Ah, qua provo a suonare. Oppure, addirittura, posso andare... A premere io manualmente i tasti. Vabbè. Lasciamo perdere. Dai, arrivo in cima. Uh, questo equipa immediatamente. La vita mi sta salendo. Vediamo un attimo. No, vabbè. Adesso andiamo magari di al... Beh, in un comodino vuoi che non ci sia una banana. La mangio. Perfetto. Dai, così mi sale un po' la fame. Vuoi che... una crowbar equipa. Ok. Che magari fa un po' più di danno dell'altro. Dove trovar assolutamente uno zaino. Ma soprattutto andando giù magari in quella... In quella location lì con il fast food. Magari trovo anche qualche... qualche cibaria da... da mandare... mandare giù. E da bere soprattutto. Anche se ho la coca cola, ma... Allora, non siamo ancora in cima. Questo è uno zaino? No. È una veste leggera. Io cos'ho? Una medium. No. La... la lascio lì. Però voglio... Ah no, c'è solo pick up. Volevo esaminarla, ma... Non c'è nulla. Adesso prendi in mano questo, che mi sento più al sicuro. Oh! Pick up. Oh! Questa buttala. Ok. Pistola. Che proiettivi usa? 9 mm. Ok. Non ce l'ho. 9 mm non li ho. Ho un caricatore. Ah, l'ho messo all'interno. Ok, perché non l'avevo. Mancava anche il caricatore. Attachment. Che bello. C'è anche la possibilità di metterci il silenziatore. Spettacolo. Niente. Voglio andare di sotto. Al piano terra. E... Voglio tornare alla pressa dei proiettili. E... E fare... I proiettili che mi mancano. No, questo è il salvager. Voglio. Ah, merdaccia. Meno va giù con un colpo. Allora. Open. Gli butto dentro. Il brass e la polvere da sparo. E mi fa i 9 mm. Che siano questi? Sì. Tecnicamente. Ma uno solo? Ma sì. Va ricaricato a mano. Quindi ho un solo colpo adesso. Vabbè, ascolta. Riprendi questo. L'ho buttato. Lo riprendo. Ok. Dai, usciamo. Interessante. Molto interessante. Perché seppur nella sua complessità. Non è... Non è così difficile. Vedete che sto... Mi sto un pochino improvvisando. Però... Non sta andando neanche malaccio. Perché ho capito subito le meccaniche. Comunque. Il fast food che... Vediamo qui. Ci avevamo passati davanti un attimo fa. Lì c'è uno zombie. Ho un proiettile solo, ricordiamo. Ma non è il caso. Solo in casi estremi. Niente. Il mio buon proposito di andare al fast food è tramontato di fronte a questa cosa che... Non c'è assolutamente nulla da vedere. Allora, questo è il palazzone da dove arriviamo prima. E niente. Andiamo... Ci inoltriamo in città. Non credo ci sia una mappa. Questo è il crafting di base. Con le bende. Possiamo farci un backpack. Questo è il crafting diciamo che non necessita di... Di cose... Di tavoli da lavoro. Quindi possiamo farci delle fence. Dei tavoli. Una porta. Cioè potremmo farci la... La nostra casa. Quindi sarà... Questo un gameplay banale rispetto alle potenzialità del titolo. Però... Caspita. Gioca non è male. Calcolando che tutti gli edifici sono visitabili. Da quello che si vede qui. Tra l'altro non so dirvi perché proprio ho deciso di giocarlo così alla... Alla bersagliera se ci sono mezzi guidabili. Ma non credo. Così. Buon uomo. Ok. Allora. Abbiamo sete. Beviamo la cocchina. Così abbiamo anche un po' di spazio. Ha perso la nave? Va bene dai. Magazine. Eh ho tanti proiettili ma... Mi manca uno zaino. Vuoi che qualcuno non abbia dimenticato sul bus uno zaino? No. Tutti molto digi. Lì c'è un altro piede di porco. Non so neanche perché non mi pare ci sia una mappa. C'è il push to talk per parlare con altre. L'ora è Bill Pat Q. Sì. Fatti. Fantastico. Ok. Andiamo. Ah no. È tutta una zona unica questa da esaminare. Ovviamente come dico sempre. Mamma mia quanta gente che c'è lì. Potrebbe prestarsi bene una live questo titolo. questo però ha resistito più di un colpo. Ovviamente c'era tanta gente di là. È tutto un po' desertico ecco. Non si spreca diciamo in arredamenti di case. È tutto praticamente vuoto. però è una di queste case qui si potrebbe riconvertire in nostra casa. con anche il garage. Poi si capisce chiaramente quando finisce la mappa perché il dettaglio cala drasticamente come potete vedere in quella montagna là in fondo. Allora questa casa è altrettanto bella ma altrettanto spoglia. Niente. Non c'è assolutamente niente di niente. Voglio lo zaino io. C'è un aereo lì. Cioè è proprio devastato tutto qui. Ok. Ho anche finito la stamina. Tra l'altro nell'aereo cosa vuoi trovarci? C'è un armadietto. Niente. Mmm. 5,56. Spettacolo. Allora. Pistola mettiamo qua eh. Mmm. State pensando a quello che sto pensando io? Il problema è che non ho i colpi. Cioè mi manca il caricatore. Ah no no. 5,56 ci metto dentro questo. Che è scarico. Quindi prendo i colpi. Del 5,56. Li metto dentro. E niente. Ho solo un colpo anche di questo. Va bene. Questo è armato bene eh. Questo ha una bella armatura. La zombie militare. Però non... Non si apre niente. Di niente. Di niente. Cioè le auto non sono allutabili. Questa è una scuola. School backpack. Equip. Ok. Infatti adesso ho uno zainetto dove poter mettere altre cose. È fantastico quello che cercavo. Anche se... Uno zaino militare... Sarebbe stato medio. Posso raccogliere addirittura... Tutto potete raccogliere. Anche i tavoli da lavoro. Quelli grossi. Vi andranno in... Ehm... Diciamo occupare tutto lo zaino. Ma lo potrete fare. Uuuu. Orbiter. Cacchio me ne faccio. E' qua. Spartan helmet. Canna da pesca. Fa danno 10. Military backpack. Un'equip. Cannot un'equip item. Cioè così. Equip. Scusa eh. Un'equip. Oh. Sai che era qua. Equip. Eh, un'altra roba. Vabbè, dai. Questa è per i grandi fan dei loot. Questo potrebbe essere un bagno. Una volta qua c'è... Un martello. Allora, colgo tutto. Campo da basket. Una porta da calcio. Potrà andare anche su lì. Ovviamente il gioco andrà... Un po' approfondito. Più che altro perché credo... Che dia il meglio di sé in multiplayer. Con anche player nemici... Di mezzo. Il possesso di alcune zone. Piuttosto che di altre. Quindi... Forse... Ora come l'ho provato ora. Ma attendo il vostro giudizio. Perché in questo caso ho voluto... Dato che di giochi zombie. Ce ne sono mille mila. Ho preferito giocarlo così. Di getto. Per darvi... Un parere diciamo al volo. Allora... Allora... Non lo reputo un capolavoro. Non è niente di imprescindibile... Nel mondo dei videogiochi. È fatto bene. Perché comunque... A parte la grafica che può piacere o non piacere... Però è una low poly... È fatto bene. Ha delle belle meccaniche. Se andiamo a vedere anche solo il fatto di... Di metterci... Non so... Il caricatore dentro ogni arma. Il fatto che comunque... C'è una bella città grossa da esplorare. Il crafting dei proiettili su un tavolo specifico. Questo cos'è? Un set cinematografico? Perché sembra quasi una... Una cosa del far west. Adesso voglio... Adrenalina. È una branch. È una chiave inglese. Adesso voglio vedere... Avanti in alto. L'elmetto a... A birillo. Andiamo nel saloon. Vediamo cosa c'è nel saloon. Cioè sono fatti bene però... Gli interni... Spogli da far paura. Però... Per quello dico che... In una live si potrebbe provare a esplorare. Perché sicuramente... Se qua andiamo a calcolare che... Guardando nel menu... C'è tutto un crafting di tavoli, pareti e balle varie... Qua farvi la base... È... Senz'altro interessante. Non so quanto grande sia la mappa però. Bisognerebbe provare ad andare in lontananza. Allora qua siamo più o meno dove eravamo all'inizio. Perché c'è il parcheggio, c'è il motel. E di là c'è la barca. Quindi la mappa io non vorrei fosse tutta qui. Ok. Questa è un'altra meccanica perché... Colpendo... Questo... Accogliamo brass. Perché se è quello che ci servebbe fare i proiettili del metallo. Voglio però sparare un colpo. Un colpo che non è andato proprio benissimo. Ora... La verità è che non sai cosa succede... Cosa succederà domani. La vita è una... Un percorso pazzo. E niente è garantito. Eminem. Sì vabbè. Allora. Random response, base response. Io metto random response. E responiamo qui. Che è più o meno dove eravamo prima. Quindi abbiamo praticamente perso tutto. Dovremmo sicuramente andare a recuperare la nostra roba. Per lo meno partiamo con una base solida. Le collisioni sono un po' così. Però... Allora. Al suo perché come titolo. Questa cos'è? La caserma dei pompieri? Eh sì. Ma c'è la certa dei pompieri. Direi di sì. Sì, 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 sì. Mamma mia. Tra l'altro il gioco non costa neanche tantissimo. Quindi... Si può valutare. Eh sì, vedete qua. Si raccoglie un metallo. Quindi questa è un'altra meccanica nascosta. Lì c'è un... C'è un tizio vestito da hot dog. Perché c'è un tizio vestito da hot dog. No, la mappa non sembra nemmeno così piccola. Trash pile, mattello e una... Che cacchio me ne faccio questa roba? Scusa. Cioè sì, vado nel mio menu e faccio place. Posso piazzare una mensola. Ok. La piazza così. Bene. Sì, perché poi si possono arredare le case. Però secondo me, ripeto, dà il meglio di sé in online con occupazioni anche di giocatori. E vale, vale. Cosa che voglio provare a vedere come funziona, giusto così per darvi un pochino il... Entriamo in un server. Garden City. Andiamo a Winchester. Vediamo come funziona. Ok. Siamo completamente bloccati. Ok, partito. Quindi qua siamo in mezzo ad altra gente. Tra l'altro siamo in una zona diversissima. Quindi la mappa deve essere proprio veramente grande. Ok, personalizzata. Quello è un giocatore. Vediamo cosa succede a contatto con un giocatore. Questa è la disca. Dov'è il Tizia? Quello lì. Vediamo. Se è così pessima l'idea di vicinarci a lui. Salve. Sì, lagga un po', eh. Però c'è un forzie. Sì, c'è un po' di lag in effetti. Lui è desponato. Mi sa che è scappato per la paura. Poi in gioco, se non ricordo male, è in early access. Quindi bisognerà vedere come lo porteranno avanti. Sicuramente è un more of the same. Ce ne sono mille, mila. No, alla fine si è sempre qua. Il motorello è sempre qui. Quindi la mappa è questa. Mille, mila giochi di questo tipo. Quindi non è che possono essere tutti belli. Possono essere tutti particolari. Senz'altro questo ha al suo perché e alle sue meccaniche. Ovviamente bisogna aspettare con i mesi, se non gli anni, e vedere come può diventare. Sicuramente sarà da valutare. Attendo anche il vostro parere se magari l'avete preso, se siete interessati. Io sono sempre, diciamo, ben disponibile a sapere il vostro parere o il fatto se magari lo avete già già giocato. Che cosa ne pensate? Ah, ma qua va avanti. Che giovane. Ah no, ma qua lì il ponte non c'è però. Ho finto la stamina. E magari se avete anche qualcosa comunque da insegnarmi, ho fatto qualcosa di sbagliato, ben venga, sono ben disposto. Comunque no, il ponte non va. Quindi secondo me non si va di là. E penso non si acceda neanche a questa nave. Ma se io salto giù, cosa succede? No, no, si va di là e come? Se io colpisco, tengo metallo, sì. Solo che ho finito la stamina. Ah, guarda, questo guarda ha costruito un tizio, eh. Sono sicuro. Per andare sul... Ok, no. Mi devo ricredere. La mappa è veramente grande. È tutto esplorabile. Ok, cambio di opinione improvvisa. E niente, qua inizia un'altra città. Ragazzi, questo è Dead Polly. Fatemi sapere che cosa ne pensate. È stata una delle... Ormai le faccio di rado. Però una blind run che non è andata a malaccio, nel senso che abbiamo visto a grandi linee il gioco. L'abbiamo provato anche in modalità online. Sicuramente non è un gioco per tutti, però è interessante, l'ho visto ma incuriosito. Insomma, ringrazio ancora lo sviluppatore per l'opportunità ricevuta. Detto questo, vi ringrazio e alla prossima. Ciao, ciao!